La Fidelis perde al Degli Ulivi per la prima volta nella storia contro il Palermo e resta ancorata all'ultimo posto in classifica. I biancazzurri di Ginestra non trovano continuità di prestazioni e risultati dopo il successo in Coppa Foggia, cinico invece il Palermo di Filippi che nelle due vere occasioni da rete segna e si rilancia in campionato verso il vertice della graduatoria. Qualche problema di formazione per Ginestra che non recupera il Giviade e Benvenga in difesa mentre a disposizione ci sono la casse Carullo, l'esterno classe 99 in particolare torna subito in campo titolare mentre in difesa c'è De Marino al fianco di Venturini e Sabatino attacco con Di Piazzettulli. Nel Palermo c'è Marconi al centro della difesa mentre Fella e Brunori in avanti con De Rose a dettare i tempi della manovra ma De Rosanero nei primi minuti non c'è tra Cianzella Fidelis a sfiorare subito il gol in almeno due occasioni Carullo. Da sinistra perfetto per Di Piazza bravo ad inserirsi nella difesa ospite meno bravo a calciare con sfera alta e Tulli a provarci ancora in ripartenza sfera deviata con la testa da Buttaro in corner ma nel miglior momento Biancazzurro come spesso accade all'alba della mezz'ora il Palermo passa. Palla nel cuore dell'area di rigore con la Fidelis in uscita Brunori è però bravissimo a girarsi in un fazzoletto e a beffare De Marino con il tiro su cui Dini non arriva. La squadra di Ginestra ci mette un po' a riorganizzarsi così ci prova da lontano Fella, palla sul fondo, stessa sorte per il tiro al volo di Almici dopo un'azione sviluppata sulla sinistra. Poco oltre il quarantesimo però un episodio dubbio in area di rigore ospite che porta con sé tantissime proteste della Fidelis. Pasticcio in aria tra Pela Gotti è per Rotta. Palla che arriva nei pressi di Tulli bravo ad anticipare Marconi che stende il fantasista Biancazzurro. Per il direttore di gare il signor Caldera di Cuomo è tutto regolare e l'azione prosegue e si conclude dall'altro lato con un tiro sul fondo di Dall'Aglio. Ripresa con gli stessi 22 in campo ma i Biancazzurri fanno tanto possesso Palla sbagliando spesso l'ultimo passaggio decisivo per finalizzare la manovra. Sornione il Palermo che controlla e non costruisce praticamente nessun pericolo per la porta di Dini anche se al diciottesimo arriva il raddoppio. Valente da sinistra sfrutta una ripartenza precisa dei Rosanero su palla persa di casa e serve con il contagiri al Mici che sull'altro fronte calcia, botta, si cura con Dini praticamente immobile. Prova allora a cambiare qualcosa a Ginestra ma solo alla mezz'ora arriva una buona occasione per i Biancazzurri con Bolognese che si libera bene e serve al limite dell'area di piazza. Bravo a liberarsi per il tiro, meno bravo nella mira. Palla alta, flipper in area a Fidelis e il Palermo sfiori il trisco nel tiro del neoentrato Soleri anche in questo caso. Palla alta, diversi tentativi potenziali della squadra di casa nel finale ma nulla di concreto e il Palermo porta a casa tre punti pesanti in chiave primato nel girone C di Serie C. Per la Fidelis è invece notte fonda, seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Latina e settimana lunga per poter preparare la sfida contro la Paganese, sempre però da ultimi in classifica.